Ragazzuoli oggi siamo in questo video qua molto corto di due minuti Impennate da giardino Giardino Mia sorella valuterà impennata per impennata Trovrà valutarle anche in questo spazio qua minuscolo Con un cane Benzo Prima impennata Provo a fare il knick knock Cinque Grazzare la mano Come lui non l'ha detto Prima di iniziare il video Se non l'avete ancora fatto Iscrivete Vabbè stavo dicendo Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina e lasciate un bel like Che ho tutto apposto Un'altra grattata Gratta ancora Mezzo alle palle Da notare che questo video qua Sarà editato con il cacucco Perché sono in Spagna Sono dimenticata di dirti una cosa Che per queste due settimane Cioè per 14 giorni Non usciranno tanti video Solo questo Che stai guardando Yeah man Check out this dope shit Vai Yeah Grazie a tutti.